Amici Trevi Meteo, bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che sarà vi anticipo bella in tutta Italia grazie al ritorno dell'anticiclone dell'Azore che dall'Atlantico si spinge verso il Mediterraneo occidentale e verso il nostro paese tenendo lontane nuove perturbazioni. In effetti anche come nuvolosità sull'Italia ho ben poco da segnalarvi, sarà una giornata con cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, nelle ore pomeridiane qualche annuvolamento si formerà a ridosso delle zone montuose ma tra l'altro senza particolari conseguenze. In effetti anche come precipitazioni non sono previsti grandi fenomeni con quindi il tempo che si mantiene nel complesso bello, qualche macchiolina si vedrà formare nelle ore pomeridiane a ridosso appunto delle zone montuose ma si tratterà semmai di brevi acquazioni di passaggio, nulla di più. Quindi in definitiva che lunedì ci attende, lunedì bel tempo in tutto il paese, cielo sereno o poco nuvoloso e tra l'altro con temperature come vedete che saranno sia estive ma non eccessivamente alte, si suda ma non troppo. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su 3bimeteo.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.